Fare presto per garantire la regolarità dei campionati senza dover ricorrere allo slittamento delle date d'inizio. Un ulteriore giro di vite, quello voluto ieri dal presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio dopo l'incontro e successiva conferenza stampa congiunta con il procuratore federale Stefano Palazzi, presente anche il presidente della Lega di Serie B Andrea Bodi. Facendo ricorsa ad una prerogativa prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, il presidente federale ha annunciato che in questi giorni elaborerà un provvedimento per stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti. Il Teramo è parte interessata alla vicenda, le inchieste di cui si parla sono quelle di Catania e appunto Catanzaro. Tradotto in termini pratici, l'obiettivo è di arrivare ai deferimenti entro la fine di luglio e il pronunciamento dei due gradi di giustizia sportiva entro metà agosto. Ma siamo molto al limite, ecco perché il presidente Abodi ha confermato che in caso di necessità il campionato cadetto slitterà per garantire chiarezza e regolarità alla competizione. Palazzi ha detto di aver già ricevuto gli atti di Savona Teramo e di aver provveduto a calendarizzare le audizioni d'accordo con gli inquirenti di Catanzaro. Quindi il presidente Luciano Campitelli e il DS Marcello Di Giuseppe saranno ascoltati in procura federale al pari delle altre persone coinvolte nel caso della presunta con BIN. Nei prossimi giorni si conosceranno le date delle audizioni. Tra le persone da ascoltare è anche l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola, che per il filonemade dell'inchiesta Dirty Soccer è stato già ascoltato dalla procura federale sabato scorso, interrogatorio Fiume a domicilio di 10 ore. Lo stesso Di Nicola, sotto il profilo penale dell'inchiesta, assistito dal legale Libera D'Amelio, è stato interrogato ieri dal GIP di Teramo Domenico Canosa, rispondendo sulla presunta alterazione della partita all'Aquila a tutto cuoio. Davanti al magistrato Di Nicola ha dato spiegazioni sulle intercettazioni relative alla partita ed ha negato sia di averla combinata, sia di aver scommesso sulla stessa. Ora Di Nicola e l'avvocato D'Amelio attendono la pronuncia del Tribunale del Riesame, prevista per dopodomani, venerdì 3 luglio, sull'istanza di revoca dei domiciliari. Qualora fosse accolta, l'ex dirigente Aquilano tornerebbe in libertà dopo 45 giorni.